Ci troviamo in via Montebello, il cuore commerciale del centro San Benedettese, a ridosso del Natale, momento clou per gli acquisti, per le feste e per i regali. Sorriso a metà da parte dei commercianti san benedettesi perché è vero che si vende ma la crisi si sente. La crisi si sente, un pochettino in giro eccetera. Io con la mia merce ho lavoricchio, ho i miei clienti e vado avanti abbastanza bene nel mio piccolo. In particolare il Natale un pochino ci dà un po' di ossigeno e ci fa ancora sperare di uscire fuori nel più breve tempo possibile da questa crisi e di far rifiorire i negozi e con loro anche la città. Voi vendete articoli di abbigliamento di tendenza, quali sono i prodotti capi che vengono più richiesti? In generale la donna veste sempre molto molto bene quindi è molto attenta alle tendenze, nuovi colori, all'abbigliamento in particolare, tutte le chicche che ci possono stare, ce ne sono tante. Da uomo stiamo vendendo molto bene il parca che quest'anno veramente più dell'anno scorso ha funzionato. Sicuramente c'è un calo dal punto di vista generale. In questo negozio trattiamo dell'oggettistica quindi per Natale piccoli regali 9,90 euro, 20 euro. Diciamo ancora ci siamo con i consumi. Per quanto riguarda anche l'attività delle logiche, alzature, qui a fianco sicuramente c'è un grosso calo. Si vendono solo determinate cose, quello che i ragazzi chiedono. Qual è qui il prodotto che viene venduto di più? Il prodotto che viene venduto di più, tutto il discorso delle cover sicuramente è un discorso che va molto forte. Cover dei cellulari? Cover dei cellulari. E molti braccialetti, tra virgolette, economici, 9,90 euro con il suo packaging carino e sta funzionando.